è un classico 3-5-2 per loro senza grandi rivoluzioni respinta di pugno cross in mezzo, la allontana di pugno il portiere di pugno allontana può essere il gol del vantaggio si affaccia in avanti la Russia Zobnin pericolo, ecco il tiro ci sono metri a disposizione Zmolo grazie a tutti